Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante Vivalico in direzione Bologna. Passiamo sulla FIPI lì dove si ricorda che è stato prorogato fino al 31 dicembre il restringimento di carreggiata a causa di lavori sulle barriere acustiche tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Mare. Sulle raccordo Siana-Firenze si ricorda che sono ancora in vigore restringimenti e scambi di carreggiata a causa di lavori tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Rallentamenti effettivi per lavori invece sulla statale 1 Aurelia in direzione sud tra Livorno Centro e Livorno Sud. Vediamo con i treni il regionale 19039 diretto da Empoli a Siena viaggia con 40 minuti di ritardo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!